Negli ultimi anni è aumentata tantissimo la richiesta di studenti italiani che vogliono andare a studiare all'estero. Ci sono varie motivazioni. Noi siamo a capo di un gruppo di formazione che nello specifico lavora con la Spagna e abbiamo fatto un accordo, in realtà già da anni collaboriamo, però da poco abbiamo fatto un accordo con Matribe Fortba, Isors, Josef Alessandro proprio per avvicinare percorsi formativi europei e nello specifico Spagna e Italia su alcuni settori come quello del mondo scuola, quindi abilitazione, laurea di scienza di promozione primaria, TFA sostegno, certificazioni di lingua, ma anche su altri settori che hanno un grossissimo livello di occupabilità in termini di lavoro come quelle delle lauree mediche. Quindi ci sono lauree mediche che in Italia per ovvi motivi, test, ingresso all'università molto difficile, le persone guardano all'estero e nello specifico noi ci occupiamo di Spagna, siamo già a capo di questo gruppo da 14 anni, a Madrid nello specifico, e stiamo già lavorando da un po' con il territorio, con la rete di Isors e Josef Alessandro e speriamo di continuare a farlo con ottimi risultati come già si stanno vedendo.